Allora, sono in diretta, vestito così, siamo come vedete in clinica, in sala parto, non so perché, ma non faccia, non l'ho mai fatto, ma sto per diventare papà, pochi minuti e ci siamo, e quindi non fumo perché non fumo, altrimenti fumerei e quindi, come dire, sono emozionato, non lo so, qui succedono cose che non vi posso far vedere adesso, per cui auguratemi in bocca al lupo, che vi devo dire, mi hanno vestito così, tutto è così, la taglia è la mia, e adesso arriverà Martina, non posso strillare, gridare, perché mi hanno vietato, però poi griderò tanto, ecco, e forse piangerò, non lo so, se avessi parole scriverei una poesia, una canzone, come hanno fatto in tanti,